Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare la seconda puntata dell'hamburger delle regioni italiane. Oggi andremo a fare il Toscana Burger. Allora, ingredienti. Lardo toscano, pecorino toscano, hamburger, questo qua l'abbiamo fatto noi, andatevi a recuperare il nostro video, guardate qua che bellezza. Macinato, uno zucchino e un po' di maionese. Allora, procediamo. Prima cosa facciamo l'hamburger. Prendiamo la nostra formina. Macinato, ci mettiamo un po' di sale. Un po' di pepe. Ecco qua. Mettiamo dentro. Ecco il nostro hamburger. Perfetto. Leviamo una cartina, la andiamo a mettere subito sul fuoco. Eccola qua. Prepariamo la zucchina. Tagliamo. La facciamo a listarelle con un pela patate. Più fino alla fate e prima cuoce. La fate tutta a striscioline, fine fine. Eccoci qua. E queste qua non ce le mettete tanto. Tanto la carne fa, piastra, griglia calda. Andiamo a metterle su. Guardate qua. Ecco, zucchine, grigliate. L'hamburger, lo vedete? Una bella giratina. Guardate che hamburgerino. Questa qua è carne buona. Allora, andiamo a fare il taglio del pane. Oggi non c'è il tagliatore del pane. E partiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei tagli. Sette tagli. Mentre aspettiamo, seguiteci su Instagram, su Facebook, su TikTok. Mettete like, iscrivetevi al canale, tutto. E anche la sigla. Buttiamoci la sigla nel frattempo che... Eccoci qua, tornati dalla sigla. Giriamo i zucchini. Guardate qua come si vengono belli grigliati. Cinque minuti, fate così fine, e grigliano in un attimo. Le zucchine pronte, spegniamole. Guardate come sono belle grigliate. Facciamo una cosa, le mettiamo in un piattino e le condiamo un po'. Un filo d'olio. Veloce. Sale e pepe. Sale e pepe, una bella giratina. E queste sono pronte da mettere nel panino. Così, facciamo una cosa, ne assaggiamo una. Perfetta. Anche un goccettino di balsamico. L'amburgo è ancora un minutino. Lo lasciamo al sangue. Nella piastra mettiamo a scaldare un po' il pane. Fa un po' di crosticina, il pane sotto. Allora, ora che l'hamburgo è quasi pronto, andiamo a tagliare una bella fetta di formaggio. Stagliamo la crosta. E ce la andiamo a mettere sopra. Così si scioglie un po'. E nel frattempo ne prepariamo altre... Mettiamo una piastratina veloce al formaggio sotto sopra. Io andrei a togliere tutto. Pane. Un bello croccantino dentro. Hamburger. Lo mettiamo un attimo nel piattino. E tanto riposa. Fate sempre riposare la carne un minutino. E andiamo con la composizione del panino. Maionese. Formaggio. Hamburger. Anche questo pezzettino. Perché poi sopra voglio fare un'altra cosa. Hamburger. Guardate che liquido. Ed ora ci mettiamo sopra il lardo. Così col calore dell'hamburger si scioglie. Guardate che diventa trasparente. È sparito il lardo ormai. Buttate, buttate. Eccolo qui che si vede un po' che scende. Poi zucchine. E per finire, un altro strato di maionese sopra. Vedete come scrocchia. Andiamo a scendere un po' i zucchini. Andiamo a chiudere. Ed ecco qua il nostro Toscana Burger. Ed eccoci qua. Ora andiamo al taglio. Però prima facciamo una cosa. Tecchini. Il Toscana Burger. Non c'è realtà solo che assaggiarlo. Guardate che il liquido. Guardate com'è bello. Com'è il guocciola. C'è il lardo che ci dà un po' il grassino. Perfetto. E siamo arrivati alla fine. Ci vediamo al prossimo video per la prossima regione italiana. Ciao. Ciao.